A voi Eros Casartelli! Un gran circo vedrano. Eros Casartelli vi presenta un grande gruppo di animali esotici. Sono in pista, quattro cammelli siberiani. Quattro cavalli avellinesi e tre zebre. Eros Casartelli vi presenta un grande gruppo di animali esotici. Eros Casartelli vi presenta un grande gruppo di animali esotici. Eros Casartelli vi presenta un grande gruppo di animali esotici. La Psella Cina è un grande gruppo di animali esotici. e ora signori osservate la varietà di animali esotici come primo esemplare un bufalo indiano una rarità una mucca a cinque zampe uno zebu un Kayal del Tiber non è facile far ballare i cavalli i balli insieme ai cannelli no? non è facile però con molte prove si riesce soprattutto con molta pazienza esatto con molta pazienza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ora signori, sta per entrare in pista un rarissimo esemplare di rinoceronte bianco. Grazie a tutti. Ancora in via di addestramento. Grazie a tutti. Dall'Australia, un canguro. E ora signori, sta per entrare in pista un bisonte americano. Ci vuole un po' di pazienza perché sono animali molto pericolosi. Si tratta soprattutto di un animale di notevoli dimensioni. Eccolo che arriva, il suo nome è Mustang. È enorme, è una cosa incredibile. È veramente un bellissimo esemplare. Dal Sudamerica, un guanaco. Ed ora signori, sta per entrare in pista la regina degli animali, Zaira. Brava, Zaira. Facciamo ancora un ultimo applauso a Eres Casatelli.